Reduce dall'importantissima vittoria di Terni per 4-1, il Lecce si è ritrovato questa mattina a Bari per rilassarsi e ricaricare le pile in vista dei prossimi impegni di campionato in questo rascio finale decisivo per la scalata verso la Serie A. Allora sempre menù d'atleta come sempre, come tutte le squadre che ospitiamo e siamo contentissimi, noi siamo tra quei baresi che vogliamo il Lecce in A e maggior ragione quest'anno che anche il Bari finalmente ci ha fatto questo grandissimo regalo. Ne abbiamo un vantaggio tutti, soprattutto anche noi come struttura alberghiera e non solo, credo, l'intera città e l'intera regione perché avere due squadre, una in A e una in B, credo che sia positivo per tutti. Qualcosa su quello che hanno mangiato? Beh, come tutte le squadre, mangiano in pochi minuti perché gli atleti non possono restare troppo tempo seduti a tavola e sempre qualcosa di leggero, soprattutto perché da quello che ho capito appena arrivano a Lecce gli aspetta già il campo per l'allenamento, quindi non perderanno forse neanche un minuto.